Buongiorno e bentrovati a questo appuntamento con la nostra rassegna stampa che andiamo subito ad aprire con le prime pagine dei giornali regionali poi andremo a dare un'occhiata anche alle prime pagine dei quotidiani nazionali ma torniamo come detto nella nostra regione andiamo a vedere subito il centro nell'edizione di Pescara il titolo di apertura che poi in realtà ritroveremo anche nelle altre edizioni e chiaramente su Rigopiano i politici escono indenni questa la lettura del centro la procura di Pescara chiude l'inchiesta restano 25 indagati per la strage nell'hotel di Farindola e poi il taglio alto con la politica regionale il voto può slittare a maggio c'è la prima richiesta a Lolli per quanto riguarda appunto un'ipotesi di slittamento delle elezioni che vi ricordo al momento sono fissate per il 10 di febbraio del prossimo anno la morte del regista dio a bernardo bertolucci ultimo imperatore del cinema di spalla nelle cronache andiamo a vedere a Pescara cosa è successo l'orefice lupo rapinato nel laboratorio assalto nel laboratorio di italo lupo e della moglie patrizia di clemente ieri sera due persone con il volto coperto hanno infranto la vetrina con uno scooter e arraffato degli oggetti preziosi lupo e la moglie hanno reagito e poi ancora francavilla denunciato tabaccaio inventa colpo per avere il risarcimento ha inventato una rapina da 13 mila euro per il rimborso dell'assicurazione mi hanno preso 13 mila euro puntandomi un coltello alla gola detto il tabaccaio di francavilla i carabinieri ma è tutto falso a smascherarlo sono le immagini delle telecamere poi ancora parla il ds leone siamo al pescara leone difende il pescara finora finora solo grandi cose ancora la cronaca ragazzina investita da un autobus paura la stazione a pescara la quindicenne ricoverata ma non è grave il conducente sotto shock nei box lavoro inserto speciale concorsi per i vigili del fuoco e medici in polizia ecco dove poi la riforma della scuola esami di maturità prove miste greco latino e matematica fisica il taglio basso con il buongiorno abruzzo di giuliano di tanna quella porta da lasciare aperta sul futuro si riflette anche sulla eredità che lascia bernardo bertolucci scomparso ieri all'età di 77 anni un maestro del cinema l'unico regista italiano ad aver vinto l'oscar andiamo avanti con il quotidiano il centro e proseguiamo con l'edizione di chieti lanciano vasto come vi ho detto il titolo di apertura è identico per tutte le quattro edizioni provinciali allora andiamo a vedere nelle cronache a chieti caos farmacia comune a rischio commissario niente da fare anche questa volta non ci sono i numeri e il consiglio comunale di chieti non riesce ad approvare la vendita della farmacia tutto rimandato a venerdì quando alla fine si saprà quale sarà il destino dell'amministrazione di primio che ha legato la vendita della farmacia al risanamento dei conti del lente per evitare il dissesto si torna a parlare della vertenza bol di san martino sulla marucina forte si schiera con i lavoratori l'arcivescovo di chietivasto interviene sui licenziamenti dei 70 dipendenti dell'azienda di lattine di san martino sulla marucina l'impresa ci ripensi non ci sono motivi validi per chiudere lo stabilimento ha detto monsignor forte a lanciano albero speciale per la città in festa a natale e poi ancora abbiamo già visto quanto accaduto a francavilla con il tabaccaio che ha inventato una rapina per ricevere rimborso dalla sua assicurazione andiamo a vedere l'edizione teramana dunque andiamo subito di spalla per le cronache la protesta al pascal comi studenti in autogestione un affronto gli studenti definiscono così il trasloco degli istituti della cona nella sede del liceo scientifico prospettato dal tavolo sul dimensionamento scolastico della provincia da domani saranno in autogestione e poi è morto corsi era l'anima di martin sicuro l'ex assessore se n'è andato a 79 anni era un noto commerciante di martin sicuro ma soprattutto un grande animatore della vita sociale del paese da assessore comunale promosse il carnevale cittadino le regate a remi si torna sull'arresto lo ricorderete dell'egiziano ritenuto un terrorista non sono un terrorista islamico interrogato l'egiziano che abitava colonnella accusato di far parte dell'isis il 22enne issam shalabi arrestato mercoledì scorso a milano su a seguito di un'inchiesta condotta dalla didia dell'aquila andiamo avanti il prefetto più pattuglia silvi contro la criminalità dopo gli ultimi episodi con le cinque macchine andate a fuoco insomma la preoccupazione che c'è nel comune di silvi per questi episodi che purtroppo si stanno ripetendo spesso andiamo a vedere anche l'edizione di l'aquila vezzano sul mona il lo spazio delle cronache all'aquila parrucchiere scarcerato caccia ai pusher arresti domiciliari per il parrucchiere gialluca castellani finito in carcere dopo il blitz della polizia che gli ha trovato in casa un chilo di cocaina e bilancini di precisione il provvedimento dopo il secondo interrogatorio andiamo a vedere a trasacco imprenditore rapinato e picchiato ha raccontato di essere stato vittima di un agguato sfociato in una rapina compiuto almeno da tre quattro uomini francesco farina 38 anni piccolo imprenditore di trasacco è rimasto ferito ed ha passato la notte in ospedale a sul mona rogo doloso al cogesa ipotesi della vendetta anche qui si torna su una notizia di qualche giorno fa con i mezzi del cogesa dati a andati a fuoco muore a 19 anni sulla strada maledetta a cappelle dei marsi l'auto guidata da uno studente si schianta contro un ponticello e poi si ribalta questo per quanto riguarda il centro adesso cambiamo testata passiamo a vedere l'inserto abruzzo del messaggero della sua prima pagina il titolo di apertura è sul rigopiano anche qui il resort non doveva stare lì il virgolettato che riporta diciamo il pensiero della procura di pescara inchiesta finita una volta costruito almeno l'hotel andava chiuso d'inverno avvisi all'ex prefetto provolo di marco e all'acchetta rispettivamente ex presidente della provincia di pescara e sindaco di farindola prosciolti da alfonso del turco e chiodi questo un po il sunto nel titolo di questa vicenda giudiziaria andiamo a vedere adesso a centropagina partiamo dalla fotonotizia Avezzano la città piange Alessio Cipollone schianto contro un muretto muore un 19enne nell'incidente stradale che si è verificato ieri lungo la provinciale 125 nel territorio di Avezzano ancora cento false opere di pistoletto il caso in tribunale in aula sfilano a pescare aperiti e testimoni al centro del processo un famoso gallerista e poi subito sotto ludopatie e questionari a casa per monitorare il gioco d'azzardo e l'iniziativa presentata ieri da Regione Abruzzo in collaborazione con il CNR andiamo a vedere di spalla Palmerini io e il grande Bernardo Bertolucci questa è la storia che riporta il messaggero il tecnico del suono aquilano racconta l'esperienza con il maestro e poi il taglio alto con gli altri richiami le altre notizie verso il voto di Stefano e Lenini uomini chiave delle elezioni poi per la serie D vastese il DS sarà De Filippis Avezzano patron Paris lascia e ancora la serie B il Pescara ci crede davvero forse ritorna la padula patron Sebastiani probabilmente valuterà la situazione alla fine del girone di andata però la squadra sta dando ottimi segni di crescita. Andiamo a vedere anche la città il quotidiano della provincia di Teramo che chiude la carrellata sulle prime pagine regionali in apertura scoppia la bomba dei crediti Team a 72 ore dall'assemblea dei soci presidente e a di in tribunale per chiedere l'arbitrato. Andiamo a vedere poi il centropagina con la vicenda Rigopiano 25 indagati in chiesta chiusa scagionati tre governatori. Ancora andiamo nel taglio alto anche la villa sarà messa in sicurezza alberi caduti al roseto degli abruzzi il sisma a Teramo portici di fumo iniziati lavori salvanegozi ancora sgomberato anche l'ex distretto. Poi andiamo di spalla con l'interrogatorio dell'egiziano che nega di essere un miliziano dell'isis ancora a Tortoreto trovata a Roma la diciassettenne scomparsa e poi l'autogestione contro il trasloco al Pascal Comiforti scatta la protesta degli studenti. Nel taglio basso ad Alba Adriatica il controllo del vicinato in consiglio rispunta alla sicurezza fai da te Giulianova i campioni dello sport con Alboretti Giulianova sempre più riconoscibile a Silvi dopo le auto bruciate più volanti di polizia per garantire la sicurezza. E così andiamo ad aprire lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Iniziamo come avete visto dal Corriere della Sera in apertura il governo e la manovra ormai un tema che ci accompagna da mesi. Avanti con la manovra ritocchi alle spese Salvini no a retromarce gli obiettivi restano lo spread scende a 2.90 il monito del governatore della BCE Mario Draghi. l'articolo di Alberto Alesina e Francesco Giavazzi i rischi non visti e il titolo la notizia della scorsa settimana non è la bocciatura da parte della commissione scrivono un evento ampiamente atteso e già scontato dai mercati. La vera notizia è che le nubi all'orizzonte della nostra economia si fanno sempre più minacciose e poi nell'articolo si spiega anche il perché e sostanzialmente la frenata del PIL mondiale che potrebbe portare il nostro paese in recessione nuovamente. Andiamo a vedere poi l'alta tensione in Crimea fra Ucraina e Russia. Mosca sequestra tre navi ucraine e crisi con Kiev la condanna di Unione Europea e Nato. Un tema questo importante anche per il nostro paese perché ci sono interessi strategici in quella zona del mondo per l'Italia e chiaramente un nuovo conflitto potrebbe avere ripercussioni negative anche ma non solo sull'economia. E poi la grande fotonotizia di centropagina la morte di Bernardo Bertolucci addio al maestro del cinema. Proseguiamo con Repubblica anche qui andiamo a vedere il titolo di apertura che è sulla manovra il governo all'Unione Europea non puniteci fino alle europee piano per inviare la procedura di infrazione ma per il via libera il deficit dovrà scendere. Il commento di Francesco Manacorda di muscoli e sgonfiati il titolo è abbastanza eloquente. Andiamo a vedere poi Kiev che proclama la legge marziale Ucraina Nato contro Mosca grave l'attacco alle navi e poi anche qui c'è il ricordo di Bernardo Bertolucci maestro del novecento che anticipò la storia d'Italia. Andiamo sulla stampa un titolo pessimista da parte del quotidiano torinese all'Europa non bastano i tagli alla manovra promessi dal governo Palazzo Chigi reddito per decreto entro l'anno pagamenti da metà 2019 Draghi avverte le politiche insostenibili mettono a rischio l'eurozona vertice fra Premier Salvini e Di Maio sulla trattativa con Bruxelles. I timori di una recessione come vi ho detto in precedenza quell'ombra che spinge a negoziare l'articolo a pagina 25 di Stefano Lepri e poi la vicenda di Di Maio e della sua famiglia lavoro nero in azienda Di Maio ammette gli errori del padre spuntano altri casi li vedremo poi più da vicino in altri quotidiani. Centropagina ecco il dottore che crea esseri umani col DNA modificato il biologo Yi Giancui il suo test è stato definito prematuro e controverso dai ricercatori anche questo tema lo vedremo più avanti soprattutto nella apertura di avvenire. Sul fatto quotidiano adesso dietro la svolta il titolo di apertura Di Maio sponda con Mattarella per la pace dei decimali con l'Unione europea. Questo è il retroscena riportato dal fatto giovedì l'incontro al Quirinale ieri il vertice sul deficit. Andiamo nel taglio alto con il padre di Luigi altri tre operai in nero le Iene i casi risalirebbero al periodo 2008-2010 e poi Salvini il nostalgico rivolgo le province casta continua e la riforma del Rio le ha solo tagliate. Questa è la prima del fatto quotidiano che poi chiaramente riporta il ricordo di Bertolucci l'ultimo tango di un grande novecento facendo un gioco di parole con titoli di due suoi straordinari film. Andiamo sul sole 24 ore il titolo di apertura è da una prospettiva diversa ma riguarda più o meno sempre l'Italia. Draghi basta acquisti in dicembre cioè il quantitative easing ma serve ancora liquidità per la zona euro così il governatore della BCE dicevo prospettiva diversa perché non si parla direttamente di Italia ma il riferimento al nostro paese è abbastanza chiaro politiche insostenibili porteranno austerità a fondi dell'Unione Europea a chi è in regola si dell'Unione Europea le nuove regole sulle banche meno vincoli per il credito alle piccole e medie imprese. E poi i conti e il colle l'articolo di Paolo Armaroli se Mattarella parla a nuora perché suocera intenda e dunque qui si torna sul retroscena che abbiamo visto anche sul fatto quotidiano. Poi deficit ridotto il governo cerca l'intesa questo è l'articolo sul vertice sulla manovra e poi il decreto legge fiscale via libera del Senato pace fiscale più conveniente per errori e liti. Nel taglio basso si parla anche di Brexit a ogni inglese costerà mille e cento sterline divorziare dall'Unione Europea. Proseguiamo con il messaggero in apertura meno spese e più investimenti vertice Palazzo Chigi l'apertura a Bruxelles da reddito e pensioni i fondi destinati alla crescita. Salvini apre da ma dubbi dal Movimento 5 Stelle Draghi politica insostenibile a rischio l'euro cala lo spread che scende sotto quota 300. Andiamo a centro pagina terzo valico da fare Matolinelli secreta il via libera dei saggi la relazione è stata consegnata da tre settimane ora il ministro teme la reazione della base grillina e poi il ricordo di Bertolucci l'ultimo imperatore del Novecento e morto a Roma l'unico italiano come vi ho detto a vincere l'Oscar come regista di spalla l'articolo di Alessandro Orsini tensioni per le navi la guerra da evitare fra Russia e Crimea come vi ho detto in precedenza è una guerra molto pericolosa sia per l'Unione Europea che per l'Italia ma non solo andiamo sul quotidiano il tempo si cambia registro nell'apertura figli di un papà minore si allarga il caso di Di Maio senior le Iene scovano altri tre suoi ex dipendenti in nero parte la vendetta di Maria Elena Boschi e Matteo Renzi travolti dai guai dei loro padri di spalla la 14enne volata dal sesto piano non è suicidio Chiara è morta per un incidente proseguono le indagini sulla morte di Chiara la 14enne dell'ostienza uccisa dopo un volo dal balcone di casa gli inquirenti tendono ad escludere la pista del suicidio secondo il PM Stefano Pizza Chiara potrebbe essere caduta per errore andiamo avanti sul manifesto il titolo di apertura è per Bertolucci addio 900 giocando con un titolo di un suo film ma anche facendo una considerazione su un altro diciamo gigante del novecento che se ne va è morto nella sua casa di Roma testimone di un secolo che ha raccontato e ha scoperto attraverso i suoi film punto di riferimento della nuova Hollywood unico italiano a vincere l'Oscar come miglior regista e poi oggi al voto alla camera il decreto il decreto sicurezza meglio non fidarsi secondo il manifesto che è un quotidiano di area comunista andiamo su avvenire invece qui siamo diciamo nella pancia del pensiero cattolico in apertura il tema etico del giorno bambine come cavie la lettura abbastanza netta e negativa da parte di avvenire le neonate che oggi hanno un mese sarebbero state concepite in provetta con un gene manipolato per aumentarne la resistenza all'HIV in cina nate due gemelline con dna modificato l'annuncio tra parentesi senza prove solleva forti dubbi etici per quanto riguarda la manovra deficit al 2-2 li mando rdc e quota 100 cioè reddito di cittadinanza e pensioni e poi la fotonotizia di centropagina giochi di guerra e battaglia navale fra russia ed ucraina mosca blocca tre navi legge marziale a kiev sul giornale il quotidiano di sallusti apre con i guai il vice premier abusi e altro nero nell'azienda di di maio blitz dei vigili nel capannone fantasma della ditta di famiglia spuntano nuovi operai irregolari diamo a vedere anche il titolo della verità la faccia di tolla dei due dem il lavoro nero del babbo di renzi gli affari in rosso di papà boschi diciamo un titolo che torna su questa vicenda che riguarda il papà di di maio messa in parallelo con quanto accaduto invece negli affari di casa renzi e di casa boschi speculando sulla denuncia di malefatte compiute dal papà di di maio l'ex premier e l'ex sottosegretario spacciano i loro genitori per gigli di campo già assolti dalla magistratura ma le cose non stanno affatto così scrive il quotidiano di belpietro paduan da ministro contattò i clienti di tiziano accusati di sabotare le indagini di spalla il caso di pamela mastropietro no all'abbreviato scusate via il processo per omicidio di pamela fatta a pezzi mentre era viva ieri c'è stata questa udienza in cui il giudice ha rigettato il rito abbreviato chiesto da osegale c'è stato anche il primo diciamo incrocio di sguardi fra la mamma di pamela e il suo presunto assassino proseguiamo con libero i virus uccidono il doppio degli incidenti stradali quindi il titolo di apertura è strage negli ospedali ogni anno 530 mila pazienti subiscono infezioni che diventano mortali per 7800 persone record in europa colpa di strumenti sempre più invasivi e di un'igiene da terzo mondo e poi c'è l'editoriale di vittorio feltri sbagliò papà non lui questa volta ci tocca difendere gigino di maio e quindi diciamo libero in questo caso diciamo si schiera al fianco di di maio nella vicenda che riguarda suo padre andiamo sul secolo d'italia il titolo di apertura di maio spacca il movimento 5 stella la rabbia degli elettori pentastellati si aggiungono poi i simpatizzanti del pd che colgono l'occasione per ricordare l'atteggiamento di di maio contro tiziano renzi nel taglio basso il primo piano no al global compact fratelli d'italia imbarazza la lega la manovra sarà cambiata conte non solo decimali e poi la rai le ultime nomine ecco i direttori di rete rai 1 carlo freccero per rai 2 auro burbarelli per rai sport scusate teresa de santis per rai 1 ho fatto un errore carlo freccero per rai 2 auro burbarelli per rai sport e antronio preziosi per rai parlamento queste le nomine per quanto riguarda la rai andiamo sul mattino il titolo di apertura del quotidiano napoletano manovra più investimenti aperture alle richieste dell'unione europea da reddito e pensioni fondi destinati alla crescita draghi il debito dell'italia un rischio per l'euro si deve trattare cala lo spread ancora il cinema in lutto per la morte di bertolucci l'ultimo imperatore poi il caso di maio il caso di papà di maio nella ditta di famiglia altri tre operai in nero andiamo a vedere i principali quotidiani sportivi nazionali partiamo dalla gazzetta dello sport la juve lancia la volata italia da poker sul piatto 250 milioni con la doppia sfida alla spagna parte la due giorni che può valere il tesoro degli ottavi di champions per le nostre quattro squadre ecco cosa devono fare bianconeri roma inter e napoli all'allianz stadium ronaldo e dibala ritrovano il valencia un conto da saldare all'andata cr7 era stato espulso la gioia era rimasto fuori da lì tutto è cambiato all'olimpico capello il real è più in crisi dei giallorossi e kolarov attacca i tifosi di calcio capiscono poco poi l'intervista a pocettino grande i cardi ma dopo sarri batto spalletti dunque questo il sunto per la per la tornata di champions nel taglio basso tornano le polemiche fra salvini e gattuso la pace arriva via sms avanti su christensen il vice premier non ce l'avevo con rino è il top dunque si chiude così questa vicenda che un po diciamo stucchevole andiamo sul corriere dello sport il titolo di apertura qui e ora juve e roma gli ottavi passano da valencia e real per quanto riguarda la champions nel taglio alto arbitra arbitri aggrediti pene esemplare il tema della violenza in consiglio federale minimo un anno di squalifica per le aggressioni ai direttori di gara gravina cori razzisti stop alle gare andiamo a vedere poi su tutto sport il titolo i titoli di apertura vale tanto juve valencia e poi toro per l'europa serve di più e dunque concludiamo così la prima parte della nostra rassegna stampa adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo poi il break pubblicitario e torniamo con la seconda parte per aprire le pagine interne dei quotidiani abruzzesi eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa torniamo come detto alle pagine interne dei quotidiani abruzzesi partiamo dal centro dove c'è ampio spazio chiaramente alla notizia di ieri cioè l'inchiesta chiusa per la strage di rigopiano per i morti a rigopiano in 25 restano indagati e il titolo principale ritardi dei soccorsi assenza della carta valanghe permessi facili all'hotel le responsabilità di regione prefettura provincia e comune di farindola nell'articolo molto lungo e molto articolato di maurizio cirillo tutti i nomi dirigenti tecnici ex sindaci e l'ex capo della provincia qui c'è tutta la lista dei 25 indagati nel taglio basso di questa pagina ecco gli sms contro il sindaco farindola lacchetta scrisse presidente di marco all'hotel ti ringrazia ancora nel taglio alto della della pagina successiva false omissione le accuse all'ex prefetto per la procura provolo comunicò di aver attivato la sora operativa il 16 ma avvenne due giorni dopo e poi chi va verso l'archiviazione fuori d'alfonso e i vertici regionali dal 2005 al 2017 in 18 escono dall'inchiesta con i tre presidenti gli assessori alla protezione civile tre direttori e un dirigente c'è anche la funzionaria che non credette alla valanga stralciata la posizione dell'ex sottosegretaria federica chiavaroli finita l'inchiesta per la vicenda del nome sbagliato di feniello dato all'inizio per vivo nella pagina successiva si parla ancora di rigopiano con le reazioni i parenti dicono finalmente vediamo la luce i familiari delle vittime ringraziano la procura e chiedono tempi brevi per il processo si dimetta chi svolge incarichi pubblici ospiti e dipendenti 29 vite spezzate dietro quei nomi tante storie di giovani di genitori e di figli rimasti orfani in quasi mille pagine le informativa le informative dei carabinieri forestali che si sono occupati delle indagini due milioni di mail sequestrate qui ci sono alcuni numeri di questa maxi inchiesta sulla tragedia del 18 gennaio 2017 restiamo su questo argomento andiamo a vedere anche la doppia pagina che propone il messaggero rigopiano inchiesta chiusa il titolo un delitto i permessi all'hotel e la mancata evacuazione per neve avviso di conclusione a 24 indagati per i quali sarà chiesto il processo sono 25 perché vengono citati 24 in realtà sono 25 una un indagato è una persona giuridica cioè una un'azienda la procura punta il tito su il dito su carta valanghe gestione dell'emergenza andiamo a vedere poi rigopiano inchiesta chiusa un'accusa in più per il prefetto salvi i governatori provolo chiamato a rispondere dei falsi contenuti in due report le responsabilità di di marco e dei funzionari della provincia nel taglio basso le reazioni c'è amarezza ma ce lo aspettavamo i parenti delusi dai proscioglimenti alesso feniello aspetto ancora risposte da d'alfonso due duri post di simona di carlo il portavoce del comitato vittime gialluca tanda mancano nomi importanti ma ora venite a sostenerci in tribunale andiamo a vedere anche la città perché anche il quotidiano della provincia di teramo si occupa chiaramente di questa vicenda rigopiano cadono le accuse verso tre ex presidenti la procura chiude l'inchiesta sulla tragedia del resort restano 25 gli iscritti al registro degli indagati poi ancora il resort non doveva essere costruito in quel punto e la considerazione a cui tendono i magistrati con il comune di farindola che non avrebbe dovuto rilasciare i permessi edilizi e poi i parenti delle vittime soddisfatti a metà matrone e feniello avrebbero voluto anche da alfonso tra gli indagati e noi andiamo ad ascoltare adesso due dei rappresentanti due rappresentanti del comitato vittime avvicinate ieri al tribunale di pescara da ludovica pelliccioni la procura di pescara chiederà l'archiviazione per la posizione dei tre ex presidenti della giunta regionale cosa ne pensa sì ne abbiamo visto su questa mattina le carte abbiamo notato che di questa mancanza evidentemente cioè loro spero che abbiano fatto un buon lavoro e che tra 20 giorni e qualcosa diciamo una trentina di giorni si escano i veri rinviati a giudizio e per ora confidiamo nel lavoro come sempre che ha fatto la magistratura fino a questo momento credi nella giustizia? speriamo noi la speranza è l'ultima cosa che ci rimane comunque fino adesso i procuratori hanno fatto un buon lavoro adesso aspettiamo questi 20 giorni che di attesa e vediamo un po cosa cosa succede purtroppo ci aspettavamo che non tutti i nomi cadessero però la procura sta comunque sta facendo un buon lavoro e noi attendiamo fiduciosi l'esito delle indagini e proseguiamo con la lettura dei giornali sul centro nella pagina abruzzo si parla di politica verso le regionali cambia lo scenario voto a maggio c'è la richiesta ufficiale boilini di radicali abruzzo scrive a lolli l'election dei con le europee fa risparmiare 8 milioni la basilicata lo ha già fatto intanto arriva il vice premier all'aquila domani di maio per il restitution day del movimento 5 stelle e poi di bastiano io pronto a mettermi in gioco l'esponente di fratelli d'italia la regione deve avere una strategia da qui al 2030 ecco le priorità di politica si parla anche nella pagina abruzzo del messaggero sondaggio quorum utrend di stefano e legnini ecco gli uomini chiave delle elezioni l'attuale leader delle civiche trainerebbe tutto il centrodestra il destino del centro sinistra legato alla scelta dell'ex vicepresidente del csm il successo di sarà marcozzi dei 5 stelle condizionato dai competitor che le opporranno gli avversari nel taglio basso cambiamo argomento microcredito due linee finanziare per aiutare imprese le occupazioni le occupazione le iniezioni di liquidità arrivano ad un massimo di 25 mila e 30 mila euro saranno interamente coperte le spese di progettazione in parte quelle di avvio dell'attività imprenditoriale restiamo sul messaggero andiamo ad aprire le pagine di pescara falsi pistoletto accuse a manzo il gallerista pescarese a secondo il pm avrebbe contraffatto l'autentica di 100 opere l'inchiesta riguarda i frattali evidenziata da un perito alla diversa calligrafia nei certificati il noto titolare della galleria sostiene di essere stato autorizzato a rilasciare le garanzie e poi caccia ai banditi che hanno rapinato la gioielleria allora di chiusura un laboratorio orafo su strada comunale piana il laboratorio di italo lupo andiamo a vedere poi il taglio basso video sorveglianza progetto idoneo ma niente fondi il comune fa da sé l'assessore teodoro è fiducioso stiamo bene in graduatore avremo le risorse e prepara la nuova centrale operativa prima di passare le notizie dall'aquilano andiamo a vedere le altre notizie sul centro con il gioco d'azzardo max indagine sulla ludopadia gioco d'azzardo test a 10.000 abruzzesi mappa dei malati discommesse la regione distribuisce il questionario in 39 comuni tra cui spiccano i quattro capoluoghi andiamo avanti il ricordo edoardo un maestro del vino natura senza artificio la lezione di valentini le pagine di pescara con l'assalto al laboratorio a san donato banditi rapinano italo lupo e la moglie due balordi infrangono la vetrina con uno scooter e arraffano i gioielli le vittime reagiscono lanciando sedie e mobili il racconto dell'orefici erano due balordi con il volto coperto da sciarpe e casco hanno distrutto tutto e portato via un bel po di roba i blitz della finanza controlli nei locali di gene i guai sequestrati migliaia di file musicali proseguiamo l'incidente paura davanti alla stazione investita dall'autobus ragazzina scusate ferita la quindicenne è finita sotto un pullman della linea urbana che stava uscendo dall'area di risutta sotto shock il conducente e poi salire sul bus costerà un euro e venti l'anno prossimo la tariffa urbana per il biglietto unico sarà ridotta del 60 per cento entro il giugno del 2019 questo almeno nei piani di tua e poi botte dopo l'abuso di alcol tre denunce per rissa in piazza martiri pennesi e poi ancora zona franca 8 milioni per disconti fiscali raddoppiati fondi per le agevolazioni alle imprese in visita alla guardia costiera l'ammidaglio pettorino a montesilvano nella pagina successiva ancora cronaca picchia la ex in strada i passanti la salvano aggressioni in corso umberto e neppure 24 ore dalla giornata contro la violenza sulle donne l'uomo preso a ombrellate e poi appunto la sit in contro la violenza sulle donne ombrelli rossi per dire no alla violenza restiamo a pescara i nuovi cantieri con il piano sbloccati i lavori per le strade groviera il comune annuncia interventi per 400 mila euro da via saline a via elettra per eliminare le buche si comincia a marzo per quanto riguarda la scuola al liceo classico arriva il nuovo corso biomedico attivo dal prossimo anno l'agricoltura sociale la coppia il sorriso è la più votata d'italia disabili e genitori superano la prima fase di un bando nazionale vogliamo ultimare la serra e l'edificio dove vivere e lavorare nel taglio basso i bimbi riscoprono i vecchi giochi domani il primo di quattro incontri alle torri camuzzi il ritorno di iachille marco papa al cinema con bastardi giovedì al massimo il nuovo doppiaggio dell'attore pescarese da troia a langiano per assoldare otto marmittoni contro il führer tornano insomma questi film comici da parte di marco papa che si diverte a ridoppiare i colossal hollywoodiani andiamo sulle pagine di montesilvano telecamera alla stazione contro i bivacchi e il titolo che apre la pagina scalo ferroviario senza controlli protestano pendolari ai residenti della zona l'assessore dei vincenti se vi sarà installato un impianto di video sorveglianza andiamo avanti con con la pagina di Francaville dell'area metropolitana break friday negozi delusi pochi affari con gli sconti a Francaville i commercianti fanno un bilancio delle vendite nel fine settimana non è andata bene forse inciso la chiusura al traffico di largo vergani siamo a piazza sant'alfonso e poi luciani l'alveo dell'alento a rischio a causa dell'incuria la denuncia del sindaco proseguiamo con la pagina della val pescara un nuovo assetto della riserva così si rilancia popoli il sindaco ottimista qui enormi potenzialità ma dobbiamo dotarci di uno strumento decisivo per lo sviluppo turistico così concezio galli e poi la polemica appenne nuova sede al paolo sesto il pd contro il sindaco semproni andiamo ad aprire le pagine di chieti ancora sul centro esplode la crisi amministrazione in bilico il comune a rischio commissariamento andiamo a vedere perché salta ancora il consiglio comunale sulla vendita della farmacia ieri mattina è slittato nuovamente per mancanza del numero legale il voto decisivo così passa a venerdì di primio dice senza cessione sarà dissesto finanziario dell'ente e poi il commento dell'opposizione che dice il sindaco ha fallito i consiglieri di minoranza attaccano subito dimissioni torniamo alle elezioni restiamo nelle pagine di chieti piano fallito scoperto dai carabinieri inventa una rapina per avere il rimborso tabaccaio denuncia con un coltello alla gola mi hanno preso 13 mila euro ma le telecamere lo smascherano e scatta la denuncia poi ancora monsignor forte si schiera con i lavoratori della boll l'arcivescovo di chietivasto l'azienda ci ripensi ma la multinazionale va avanti con i licenziamenti andiamo adesso a vedere il messaggero nelle pagine di chieti eccole qui la minoranza tutti dal notaio per mandare a casa di primio chiaramente si torna sullo scontro in consiglio comunale forse in settimana la raccolta di firme decisiva l'adesione dei cinque dissidenti il centrodestra con il commissario saranno i cittadini a pagare i danni salta ancora il consiglio sulla vendita della farmacia di filippone ed è bagare poi l'arcivescovo che si schiera con i lavoratori della boll abbiamo già visto in precedenza le parole di forte i responsabili della società ci ripensino lolli il presidente vicario della regione dice si prosegue sulla strada dell'incomunicabilità con l'azienda che sembra non prendere in considerazione alcuna ipotesi di mediazione nella pagina successiva nuovi poveri la carica di la carità si naffanno siamo chiaramente nella pagina di l'ancenova stortona luigi cuonso lancia l'allarme non solo forniamo alimenti ma paghiamo sempre più conti per bollette e cure mediche la mancanza di lavoro è la prima causa di disgregazione in casa le tensioni sfociano in violenze di mariti sulle mogli andiamo a vedere le altre notizie andiamo a centropagina la scomparsa di razzotti e ciavarelli lanciano piange due cittadini illustri orecchioni sporce querela dopo la lettera minatoria l'assessore nel mirino e poi semplicità e coraggio nella vita la lezione di giancarlo giannini ospite a cupello e ancora vasto carenze alla casa di riposo assoluzione per ezio tilli andiamo a vedere le notizie dal terramano restiamo sul messaggero il titolo che apre la pagina aiuto il liceo si è ristretto studenti sul piede di guerra autogestione al pascal comi forti contro il progetto della provincia i ragazzi non vogliono essere trasferiti nella nuova sede priva di spazi adeguati il trasloco in via le bovio dove si intende realizzare un polo tecnico professionale non piace agli iscritti che avviano così la protesta picchiate e violentata l'ex finisce in carcere la notizia di cronaca giudiziaria e poi ancora nel taglio basso shalabi al giudice nessun contatto con l'isis così il presunto terrorista egiziano arrestato a milano nell'interrogatorio di garanzia la regione manda gli ispettori nell'ufficio della ricostruzione e l'altra notizia su questa pagina invece nella pagina successiva quella della provincia nuovo round fra magrini e comune altar bisogna discutere nel merito la questione del provvedimento di chiusura per il bagno già bocciato dal consiglio di stato a palazzo per la prima volta volero rivolgersi al grado di giudizio superiore senza attendere i giudici aquilani e poi in val vibrata cede la condotta del ruzzo comuni a secco possibili disagi a notare scostante gidio nepezzano santomero e bellante andiamo a vedere nel centro le pagine di teramo si riparte dal terrorista intercettato l'inchiesta l'egiziano non sono un terrorista dell'isis il giovane arrestato si difende davanti al giudice il padre fuori dal carcere mio figlio pensa solo a lavorare poi ancora il sindacato di polizia il siulp grande operazione nonostante il poco personale cambiamo argomento nel taglio basso gli ispettori del al usr servono più tecnici sindaci di colledara e pizzoli avviano la verifica su incarico di l'oglia l'ufficio per la ricostruzione pagina successiva violenze sulla compagna può andare a processo pineto l'uomo in carcere d'aprile per il perito è capace di intendere volere picchiò la donna fino a romperle una costola che le perforò un polmone ancora gli architetti dal 2019 si rischia il caos nelle regole edilizie e poi nel taglio alto ragazzino folgorato la procura delega i tecnici dell'asl nuovo sopralluogo a giulianova ricorderete quanto accaduto in piazza della libertà andiamo avanti con le notizie dal terramano andiamo sulla città per continuare la lettura delle notizie dalla provincia di teramo dal carcere respinge ogni accusa sull'isis shalabi davanti ai giudici nega di essere un solitario pronto a colpire ed ad a ruolare miliziani le indagini e dico se polizia postale passano al setaccio il materiale digitale sequestrato fra colonnella e tortoreto e la rete delle sue amicizie nel taglio basso il ministro centinaio oggi tra le aziende colpite da neve e terremoto nel pomeriggio sala isola del cran sasso dopo aver incontrato le associazioni di categoria alla fortezza docre continuiamo teramo scoppia la bomba dei crediti alla team a 72 ore dall'assemblea richiesta dal sindaco il presidente e la d di viadelfico chiedono l'arbitrato al tribunale conseguenze imprevedibili la richiesta di bozzelli e pelagatti ricongela ogni decisione della sulla società in un momento decisivo per l'amministrazione d'alberto andiamo avanti abbiamo già visto autogestione contro lo spostamento forzato al pascal comi e poi via la messa in sicurezza dei portici di fumo iniziati i lavori alla parte pubblica e comunale transenne e mantovane scongiureranno la chiusura dei negozi per il terremoto sgomberato il palazzo dell'ex distretto militare a porta romana e ancora il taglio basso sarà il caos tra prg e regolamenti edilizi comunali l'ordine degli architetti bacchetta la regione per la confusione ancora irrisolta si parla anche dell'ex manicomio la psichiatria esige la sua parte alla presentazione del convegno sulla chiusura della struttura il dottor moschetta ricorda il vincolo della legge basaglia traffico in tilt per l'ennesimo botto sullo stradone sempre a terramo incidente l'ingresso del centro commerciale nell'ora di punta da rivedere la viabilità lungo via dei gasperi ad alba adriatica spunta l'idea del controllo di vicinato poi ancora ad alba resta i linghi in arrivo per piazza 4 novembre andiamo avanti tarquini bacchetta su decoro e gene la città che vorrei il campione del mondo ospite dell'incontro al curs al critico sulle condizioni delle strade del lungomare giuliese marco giampaolo allenatore della sampdoria con un messaggio video ha ammesso di riconoscere sempre meno la sua città in questo incontro che c'è stato proprio a giulianova organizzato dall'associazione il cittadino governante andiamo avanti rosetto degli abruzzi anche la villa sarà messa in sicurezza l'assessore petrini rende noto che le piante dell'area verde rientrano nel maxipiano di potature varato dal comune a silvi pronto il piano per fermare la criminalità ieri mattina a tavolo sulla sicurezza chiesto dal sindaco scordella dopo gli ultimi episodi con le macchine andate a fuoco in città torniamo sul quotidiano il centro andiamo ad aprire adesso le pagine dell'aquila la tragedia a cappelle dei marsi muore a 19 anni sulla strada maledetta l'auto guidata da uno studente di cese si schianta contro un ponticello e si ribalta gli amici dicono era solare amava la vita a trasacco agguato in casa picchiato e rapinato da quattro banditi imprenditore racconta la violenza mi hanno portato via un borsello con 500 euro aggredito anche il mio cane a sulmona fiamme alcogesa si ipotizza la vendetta raffica di interrogatori nell'indagine sul rogo doloso che ha distrutto i mezzi aziendali andiamo a vedere le pagine dell'aquila sul messaggero eccole qui consiglio senza maggioranza il sindaco finisce nel tritacarne l'apertura di pagina in aula mancano i consiglieri e gli assessori l'opposizione il comune allo sbando la replica di biondi ecco le mie presenze penoso chi getta fango senza conoscere clamoroso mea culpa di silveri di forza italia grande amarezza non siamo stati adeguati ma in oala c'è profondo ostruzionismo di spalla notte con 30 scosse nell'alta valle dell'aterno magnitudo massima di 2 e 9 eventi avvertiti distintamente dalla popolazione nella pagina successiva ancora all'aquila via 20 settembre demolizioni più difficili si allungano al 3 di dicembre i tempi per la riapertura al traffico l'edificio ex impdap sarà abbattuto lasciando la parte interrata i commercianti hanno chiesto al comune provvedimenti urgenti per cercare di limitare le difficoltà legate all'impossibilità di transito pagina successiva quella di Avezzano Sulmona un altro fuoristrada muore a 19 anni abbiamo visto in precedenza tragedia sulla provinciale tra Antrosano e Cappelle alle porte del capoluogo a perdere la vita lo studente Alessio Cipollone l'utilitaria condotta dal giovane finisce contro un albero all'altezza di una curva sbandato forse per l'alta velocità andiamo a vedere lo sport adesso torniamo sul centro chiaramente andiamo in serie B per parlare del Pescara l'intervista al direttore sportivo Leone dice ma quale calo il Pescara non è la Juve il dirigente nessuno ha detto che dovevamo ammazzare il campionato una sola vittoria nelle ultime cinque gare il pareggio con l'ascoli ha lasciato la mano in bocca ai tifosi finora abbiamo fatto grandi cose dice Leone poi il posticipo con la partita fra Cosenza e Crotone il derby calabrese finito 0 a 1 per il Cosenza e poi domenica trasferta Perugia oggi la ripresa degli allenamenti tra gli ombri falasco squalificato andiamo a vedere anche l'apertura di pagina dello sport sul messaggero eccola qui il titolo sul Pescara Pescara l'ora della verità roadmap molto interessante secondo posto anche se sofferto Sebastiani e Pilon sulla stessa linea per restare in alto non si devono regalare gol per quanto riguarda il mercato a gennaio un bomber per sognare torna la padula questa è l'idea diciamo del delfino che sta valutando il ritorno del 9 e poi nel taglio basso alti e bassi nella stessa gara da correggere Marras Capone Antonucci finora a 0 gol Pilon sa bene quali sono i numeri da migliorare restiamo sul messaggero e completiamo così le pagine di sport Teramo per salvarsi servono altri rinforzi Ranieri non mi aspettavo di tornare titolare e perdere in casa Fratangelo ormai ai margini potrebbe finire subito alla vastese questo per la serie C da sabato prossimo fino alla fine di febbraio i biancorossi giocheranno sempre di sabato serie D Avezzano patron Paris lascia ad Alessandro questi gli ultimi sviluppi in casa dell'Avezzano il patron sarebbe seriamente intenzionato a passare la mano a Luciano D'Alessandro attualmente nell'organigramma societario come vicepresidente D'Alessandro ha una sorta di diritto d'opzione da esercitare entro il 30 novembre così assorbendo un ulteriore 26 per cento delle quote societarie arriverebbe al 51 che consente il controllo della società ancora serie di Pineto mese decisivo per capire le ambizioni fino a oggi gare non all'altezza contro le deboli restiamo nel campionato nazionale dilettanti di Giovanni non cambio il mio notaresco adesso la sconfitta subita nel derby non fa cambiare prospettive al notaresco andiamo avanti ancora la serie D con la vastese De Filippis nuovo direttore sportivo domenica giornata biancorossa contro il Giulianova per quanto riguarda invece il Francavilla Candeloro sbotta Francavilla sei rigori contro sono troppi le altre notizie il basket Roseto penultimo serve l'immediato cambio di rotta in A2 e poi tornando alla serie D Real doppia trasferta tra coppa e campionato domani il Giulianova civita Castellana per gli ottavi in gara secca recuperano Tozzi Borsoi e Lenart Stallone vogliamo andare avanti il rugby San Buceto caos spogliatoi si dimette il presidente poi il volley di A2 la sie cortona cinque partite da non fallire per i playoff per il calcio a cinque Lacque Sapone cerche il pass per i quarti con la Lazio torniamo sul centro andiamo a completare la lettura delle pagine di sport il Teramo riappaiono i vecchi fantasmi diavolo in crisi con un punto in quattro gare è una classifica simile a quelle delle ultime due stagioni sabato c'è un'altra partita in casa contro il Renate intanto il posticipo fra Pordenone e Ternana è finito 1 a 0 per il Pordenone andiamo avanti con la serie D con il calcio mercato al via rivoluzione Avezzano Cesena occhi su Palumbo il club marsicano punta ai ritorni di Padovani Leto e di Curzio in uscita Alessandro i romagnoli vogliono il fantasista del Francavilla vastese via Molinari e Viscardi in eccellenza Chieti tratta farricello della Scafatese nero verdi attivi sul mercato domani la sfida col Nereto in Coppa Italia per la promozione Lanciano si lecca le ferite dopo la seconda battuta d'arresto contro il Casal Bordino poi abbiamo i protagonisti del calcio giovanile Nero stellati vincolo di misura a Silvi l'Alba non sbaglia frena il capistrello e andando avanti con il basket l'Europa Vini ha deciso via Sorgentone ora si valutano Cohen e Nunzi per il tecnico fatale il K.O. di Bisceglie oggi la decisione sul nuovo allenatore in A2 Roseto così non va a Imola terzo K.O. di fila che fa scattare l'allarme ancora la Magic Chieti sbarca nella NBA il club sigla uno storico gemellaggio con Orlando il 22 dicembre la cerimonia nel taglio basso il calcio a 5 il Civitella Colormax strappa un punto a Latina abbiamo così completato la nostra rassegna stampa io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina vi ricordo gli appuntamenti di oggi con il nostro palinsesso a partire dall'edizione delle 14 del Tg6 che poi tornerà alle 19 e alle 23 e poi questa sera alle 21 l'appuntamento con Proteramo per approfondire con Jacopo Forcella e i suoi ospiti il momento negativo del diavolo è davvero tutto grazie ancora e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti